gioca tre partite in una settimana perché quest'oggi a Roma poi andrà a giocare mercoledì a Disernia alle 20 e 30 e poi nuovamente qui domenica 10 marzo anzi domenica 14 scusate contro ci sta di Castello alle 20 e 30 perché siamo ancora in diretta su SNAI SAT ma noi andiamo a goderci questa partita caro Roberto sì quindi io sto ammirando questi due cubani che di cui abbiamo sentito parlare tantissimo sia io ho mirato la battuta di Juan Carlos Barcala eh Federazione gli ha permesso sono due fior di giocatori e intanto Barcala continua a menare come un fabbro guardavo la classifica Giorgio Padova non opposto con 31 punti e davanti c'è città di Castello e la Codieco Lupi Santa Croce per evitare la prima fase dei playoff bisognerebbe arrivare sesti il punteggio è quello della Samgas Ray Macrema è tutto dal primo set 25 19 perché Padova ha chiuso in maniera agevole il parziale a tra poco amici non staccate gli occhi dal video perché è una partita molto bella ed è sicuramente tutta da vivere se voi aspettiamo per parlarne un po' durante il primo time out tecnico una grande ricezione questa perché questo è come si dice mezzo punto per Yu Koshikawa ha ricevuto ad una mano una bordata terribile assalto bravo su De Marchi va a Tiberti sposta ancora per De Marchi questo è stato un gran 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 schema d'attacco tanto tempo per permettere ai telespettatori di gustarsi questo spettacolo che sicuramente è da vedere guardate hai visto chi sa calcare i campi da tanti anni con il vedi si sposta poi e quindi va a ricevere il centrale e questo è una grande attacco vediamo cosa fa Brande Tiberti piazza De Marchi allora può contrattaccare ancora Portuondo e poi non chiude Polidori mamma mia vediamo adesso se riuscirà a giocare la palla è fuori Portuondo cercava in qualche maniera di rimettere in gioco il pallone Baghera assolutamente sbagliato come dice il buon Roberto in questo momento 2 a 0 25 a 19 25 a 20 per Padova non staccate gli occhi dal video di scena la formazione di Montagnani contro la seconda in classifica e partiamo subito con un ace di Koshikawa a ricordare a Roma che Padova sta vincendo 2 7 a 0 si è subito ravveduto l'arbitro ci mancherebbe altro e quindi vabbè siamo 3 a 1 che difesa che ha fatto il buon mamma che difesa che ha fatto e ci sono difese da una parte all'altra con contrattacchi allora Garghella può contrattaccare ancora Padova o Juan Carlos Barcala mamma che difesa del libero e allora questa volta è Poe e che muro ha fatto Cico De Marchi e che male che lo sta guardando Poe perché gli ha stampigliato un muro pazzesco un po' cambiato è andato il primo match ball e allora il secondo è proprio Moral ha battuto corta Garghella Tiberti Cico De Marchi ed è giusto che esultino i ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti